Sì, dimostra lo strapotere delle cosche, ma anche la presenza dello Stato, ma anche la capacità della procura distrittuale di Catanzaro, la capacità della Polizia di Stato a contrastare questo strapotere. Cioè, è l'indagine di oggi per noi importantissima, non solo per il numero degli arrestati 56, ma soprattutto per il livello probatorio. Un livello altissimo, cioè noi siamo riusciti attraverso intercettazioni di vario tipo ad acquisire prove dirette dalla voce degli attori protagonisti, dove ci sono delle richieste in chiaro di estorsioni, ma stiamo parlando di estorsioni di 20.000 euro al mese. Stiamo parlando di un'organizzazione mafiosa di indrangheta di Serie A, dal nostro punto di vista. Stiamo parlando di un'organizzazione di Serie A che controllava tutta l'attività turistica di tropea e paesi limitrofi e l'indotto di queste attività, con connessioni che portano sino alla Germania, dove attraverso la compiacenza anche di enti pubblici, infatti c'è qualcuno degli indagati, aveva anche delle interconnessioni con la pubblica amministrazione, con la Regione Calabria, anche se ora in pensione, che ha consentito, che ha facilitato questo business e questo affare ad ottenere contributi, e ad ottenere contributi regionali che poi erano contributi provenienti dalla Comunità Europea. Quindi è un'indagine molto seria, a parte i beni sequestrati. Guardi, stiamo parlando di indrangheta di Serie A, stiamo parlando di che dovrebbero denunciare persone che in passato hanno dimostrato che la vita di un uomo è uguale a quella di una gallina. Quindi non è semplice denunciare. E ancora dobbiamo fare passi avanti, dobbiamo fare passi importanti, però io sono fiducioso. Per chi è qui dal 2016, per chi di voi segue la cronaca dal 2016 a oggi, mi pare che abbiamo fatto una rivoluzione, soprattutto nel distretto di Vibbo, come nel distretto di Crotone, ma se noi andiamo a Cosenza, meno di due mesi fa abbiamo restato 202 persone a Cosenza, con polizie e carabinieri. Nella stessa Catanzaro, l'isola Felice, dove non accadeva nulla, mi pare che abbiamo fatto cose importanti. Quindi ce la stiamo mettendo tutta. Tutto questo miracolo è stato possibile perché siamo stati credibili, perché i vertici della forza dell'ordine ci hanno dato credito e ci hanno mandato gente così. Cioè la presenza oggi del prefetto Messina, la prefetta oggi di Lamperelli, dimostra che siamo credibili, altrimenti non sarebbero venuti se fosse stata un'indagine non importante o così appiccicaticcia, non ci mettono la faccia su cose appiccicaticci. Sì, guardi, io tengo a sottolineare che l'azione di contrasto in questi territori, dove il fenomeno è endemico, non può essere eseguita se non passando attraverso una repressione massiva. Ora, questo territorio, la repressione massiva, perlomeno da quando io lavoro con il dottor Gratteri, l'ha sempre fatta. Adesso abbiamo aggiunto, come dire, anche un ulteriore elemento, cioè la contemporaneità dell'attacco al patrimonio mafioso. perché vedete, nell'indagine di oggi, il sequestro di un ammontare di beni economici per 250 milioni di euro e la prosecuzione naturale dell'azione investigativa sull'ala militare. Qui il potere entranchetista si manifesta con il condizionamento assoluto della libertà economica e commerciale. E rispetto alla domanda fatta poco fa, io dico che è sorprendente anche la consapevolezza di andare verso un'organizzazione alla quale si cede il proprio diritto, la propria libertà economica. Lo Stato deve mettere in condizioni questi signori di essere tutelati e quindi prima di chiedere che si collabori, deve anche in un contesto di questo tipo essere in grado di garantire la sicurezza. ma questo lo Stato lo farà, lo fa, passando attraverso una rigorosa attività repressiva che deve liberare fisicamente il territorio da questi soggetti e deve riappropriarsi, deve consentire che lo Stato si riappropri dei beni che questi soggetti, per essere restituiti alla comunità, dei beni che questi soggetti hanno accumulato con la loro attività illecita. In questa indagine si rispecchia plasticamente la strategia della Direzione Centrale Anticrimine che condivide pienamente questa forma di contrasto, che fa un salto di qualità rispetto al passato, attacco al patrimonio in contemporanea con la disarticolazione dell'apparato militare. Questo mette le organizzazioni mafiose in sofferenza. Ovviamente c'è ancora molta strada da fare e siamo qui per questo. Il contributo delle forze di polizia a procure della Repubblica sovraesposte e impegnate io non credo che potrà mai venire meno perché andiamo tutti verso un'unica direzione e liberare questi posti da questa incombenza. La Calabria non può rimanere una ruota di scorta del Paese e l'economia calabrese deve poter rifiorire ma bisogna pulire la Calabria e questo stiamo cercando di fare.